Hai qualche storia che vuoi raccontare, qualcosa di particolare che ti è successo, che porti nel cuore e che spesso dici ecco questa cosa mi ha arricchito anche a me? Allora, sì, mi viene in mente un uomo arrivato da me dopo aver avuto l'amputazione di un arto a seguito di un tumore. Arriva da me e ricordo che quando aprì la porta mi chiesi che cosa posso fare io per quest'uomo. Anche lui non sapeva bene perché era arrivato qui, nel senso che era venuto sulla fiducia di chi gli aveva detto di venire ma non sapeva bene che cosa avremmo fatto. Si è proprio aperto. Ho detto prima che la nostra non è terapia verbale ma il più delle volte capita che poi ci si metta un po' a parlare di quello che è capitato. E ricordo che lui aveva nel cuore il fatto di poter fare un certo viaggio con sua moglie che fino ad allora perché lavoro, 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 lavoro non è riuscito a fare. Affrontammo un po' il discorso di che cosa ti aspetti da questo nostro incontro e lui aveva questo viaggio collegato al raggiungimento di un certo numero di anni della sua attività. Lui voleva festeggiare il raggiungimento di questo anniversario con i suoi figli e con sua moglie. Non riuscì ad arrivare lì. Si è aperto e aveva iniziato a valutare delle situazioni che fino a quel momento non aveva mai valutato. Mi ringraziò per avergli fatto vedere alcune cose che lui da uomo grande, forte, che portava avanti l'attività ai figli eccetera non aveva mai preso in considerazione. E poco prima di morire mi chiamò se avessi potuto andare a casa sua a fargli un trattamento perché lui quando facevamo i trattamenti poi si sentiva molto più sereno. E io ricordo quel giorno a casa sua dove sapevo che era l'ultima volta che l'avrei visto. Una grande emozione perché mi guardò negli occhi sapendo anche lui che stava andando ma con una luce dove io ricordo il suo grazie. Quando lui morì, io quella notte ricordo che mi svegliai, chiusi lo studio per qualche giorno perché non mi sentivo di poter ricevere delle persone. Quindi non era corretto fare, non riuscivo a fare niente per chiunque sarebbe venuto. Iniziai a pensare che forse io non ero abbastanza preparata per poter aiutare le persone. E quindi ebbi un attimo un momento di crisi, finché pochi giorni dopo ricevetti una telefonata che mi diceva Tiziana ti prego, ho bisogno di te perché tu mi hai risolto. Non ricordo che qual era il problema di questa persona, ho bisogno di te perché tu mi sai dare una mano. Allora capì che quello era un segno, ringraziai tantissimo quel segno, capì che chiunque per effetto di risonanza arrivava qui era quella persona che aveva bisogno di fare quel pezzetto di strada per mano. Io qui ho un quadro che adesso non si vede, che mi regalò una Loredana tantissimi anni fa, due persone che si tengono per mano sotto un cielo stellato. La mano con la quale si tengono le due persone è dipinta di rosso e dietro questo quadro Loredana mi scrisse grazie per avermi tenuta per mano. Ecco io se tu sei d'accordo chiuderei così perché sono molto commossa in questo momento dicendo che ho capito e sono grata del fatto che qualunque sia il mio intervento è quell'intervento che in quel momento è necessario e utile per fare quel pezzetto di strada insieme. Bene Tiziana, allora state emozionante. Sono contento di com'è andata questa prima puntata e ci hai fatto un po' scorgere qualcosa del tuo mondo, però ovviamente adesso mi è venuta voglia di sapere altre cose. Bene. Non è sufficiente quello che ci siamo detti, voglio sapere altre cose. Ok, quindi ci rivedremo. Spero. Con piacere. Ok, e ovviamente voglio chiederti un feedback. Come è andata? Come ti sembra? Perché è la prima volta che noi ci vediamo dal vivo, siamo solo sentiti a distanza. Sì. Non hai, credo, mai fatto qualcosa di questo tipo? No, così no. Mai? No, era una cosa molto più easy in queste radio che facevano queste interviste, ma non si è mai entrati così. No. Ci va tempo, eh? Sì, poi questo studio allestito è molto bello. Com'è? Mi sento importantissima. Se però le persone che hanno ascoltato questo contenuto volessero sapere di più di te, contattarti, dove vanno? Allora, io sono su Facebook, Tiziana Trento, oppure c'è una pagina studio riflessologico cromoterapico. Permetteremo i link. Sì, ok. Su Instagram sono tizzi.tr.3, mi sembra, credo di sì. Io colgo anche l'occasione per invitare, se qualche tuo paziente vede la videointervista, una videointervista, raccontare la sua esperienza con te, il suo percorso, sarebbe bello, no? Perché avremo anche una prospettiva del paziente. Chissà, dai, invitiamo. Vediamo, vediamo se qualcuno c'è. Lanciamo questi inviti. Ok? Grazie. Ti ringrazio. A te. Buona giornata, a presto. A presto.